è un po' di roba verda guarda che bello che si siamo assente, siamo assente fuori dunque Mario se fa iva e va dove? se fa iva e va alto vuol dire che porta bene è bellissima ragazzi bravo attento 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 bravo bravo Mario bravo Mario cinzia cinzia via vai è spettacolare ragazzi in una atmosfera a creste come questa la nei colli eguani verso l'orizzonte del vicentino ci stiamo godendo ci stiamo godendo questa serata e dove? e dove? e dove? e dove siamo? se no nella casa bellissima nei colli di Mario Svirner una leggenda un mito una storia una storia Dio mio no hai il berlusconi che si merita guardate che va Mario Svirner grazie 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 grazie